Taio del Nastro, questa mattina per la Casa della Salute Centro-Est, la prima del Comune di Prato e la seconda del territorio provinciale dopo quella dell'Alta Val di Bisenzio, inaugurata sabato scorso. Ospitata in un immobile della Misericordia di Prato, la struttura è accessibile da via Fra Bartolomeo e rappresenta un potenziamento dei servizi sanitari cittadini. Nei suoi 500 metri quadri, infatti, troveranno posto 14 medici di medicina generale, l'infermiere di famiglia e di comunità, i servizi sociali, vaccinazioni, attività amministrative e la salute mentale. Si comincia subito con la parte amministrativa e sociale, si prosegue a settembre con i medici di medicina generale e a ottobre con gli specialisti. Quindi vuol dire una copertura da parte dei medici di medicina generale sulle 12 ore, comprensiva poi anche di tutto il sabato. Presente all'inaugurazione l'assessore regionale Stefania Saccardi. Davvero il partenariato che abbiamo da sempre sostenuto con le associazioni di volontariato si è verificato anche in questo caso. Siamo nei locali della Misericordia di Prato che ha risposto ad un mando pubblico della Società della Salute e che ha messo a disposizione questa struttura, direi, anche molto bella e in tempi anche abbastanza rapidi. Il direttore della Stoscana Centro, Paolo Morello Marchese, parla di sfida da vincere per strutturare il territorio in modo da evitare che a fronte di una grande testa rappresentata dall'ospedale ci sia un corpicino piccolo, ossia i servizi sanitari territoriali. Siamo contenti ma non soddisfatti perché è necessario andare a regime il prima possibile dato che non sappiamo cosa ci aspetta in autunno. Ed è proprio al grande lavoro fatto durante l'emergenza sanitaria che guarda il sindaco Matteo Biffoni nel dire che quello di oggi è un ulteriore tassello per potenziare l'offerta sanitaria del territorio. Un già territorio munito di un ospedale che ha dato questa prova di sé così importante e della presenza di medici e famiglia che hanno collaborato si troverà davvero a avere spalle larghe per gestire tutte le evidenze sanitarie che certo si spera non siano come quello che abbiamo vissuto in questi mesi. Grazie.